si metterà alla fine del video si metterà resti sconduti è fighissimo ragazzi ve lo dico adesso sono tre filmati aspetta eh vai ok adesso resta lì per sei stoppi 1 2 3 3 3 dei in Ok Un po' di nà Girati che un po' si scattola Non fa niente, non si vedrà Allora Allora Minore E Non vediamo Un po' di un crampo Un po' di un Sì, 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 sì. Ok, fermaci Ok, e ora tipo svegliati di scatto Ah, ma ci stava, dai, l'audio puoi anche non farlo Però, riprovaci Perché svegliati?